Nello scontrino si fingono sciatori a colmailleur oppure bagnanti a capri, perché qual è il messaggio? Il messaggio che vogliono passare è un messaggio falsissimo, quello che dice che se pagassimo tutti le tasse il paese si riprenderebbe. Ma chi ci crede? Vuoi dire che se noi pagassimo il doppio di tasse il paese andrebbe bene? Se pagassimo il doppio di tasse queste merda ruberebbero il doppio? Ma dove vivono questi qui? E allora noi partiamo dalle città, dai comuni, andiamo dentro, bilanci partecipativi, bilanci soldi, la politica sono i soldi. Togli i soldi dalla politica, togli le carriere e diventa un'altra cosa, diventa volontariato, tutti volontari. Si vendono le magliette, fanno una campagna, altro che rimborsi elettorali, fanno delle campagne da 1.000-1.200 euro al massimo, non mettono manifesti. Ma ti dico, c'è qualche cosa che sta arrivando. Allora le tasse sono la politica. Non possiamo pensare di avere il costo del lavoro più alto d'Europa e i salari più bassi d'Europa. Porca puttana! Non andiamo da nessuna parte! Togliere le tasse dalla produzione del lavoro e metterlo sulle attività che rompono i coglioni, che inquinano, che bruciano carbonio o che inquinano. De tassare le aziende piccole, innovative, sulle rinnovabili, via rete. Ci sono delle cose meravigliose, delle persone straordinarie. E invece come siamo ridotti? Hanno fatto la legge Biagi sui giovani, trasformata da questo essere che non si capisce cosa sia, la Lega. Ma la Lega, i trota, i girini, i merluci, ma la Lega non doveva neanche esistere, la Padagna, Paperopoli, Godansiti, ma che cazzo sono? E ora vengono, e ora, ma loro hanno partecipato anche a torte, le torte del trota, la paghetta dell'autista. L'Eurocredità ha fatto delle banche che sono fallite con i risparmi di quelli che ci credevano. Hanno fatto delle cooperative padane che hanno disintegrato tutto, centri, villaggi, fallimenti. E queste vengono processate per una cazzata. Perché è una cazzata questa qui. Non c'è una denuncia, non c'è un reato, non c'è un avviso di garanzia. È un processo mediatico. Attraverso questa stampa ormai corrotta, schifosa, si vogliono togliere... Era l'unica opposizione a questo cazzo di governo ABC del nulla. Adesso Vendola, io Vendola l'ho sempre... Però in questo caso mi sento di difenderlo. Cosa c'entra Vendola che ha raccomandato un primario su tutti i giornali? Vogliono far fuori quelli che possono essere degli antagonismi. Allora la Lega fuori, Vendola cercano. Poi il prossimo sarà Di Pietro e l'ultimo chi sarà? Io col gatto che vi fate fuori. A me non vi fate fuori. Non ci farete mai fuori. Siamo noi che vi facciamo fuori. Allora, le tasse, le tasse, le tasse, le tasse, le tasse devi darmi la destinazione d'uso delle tasse. Tu le tasse le paghi? Tu hai visto il mio 7,40? Lei le tasse le paga? Io le pago, sì. Allora? Lei, pensate questa sera, è pagato? No. Davvero? Ma cosa sei scemo? Non è andato a fare in culo? Ma non hai capito niente? Perché è volgare? Ma non hai capito niente? Perché è volgare? Ma perché vieni a dire se io prendo dei soldi? Ti stiamo dicendo che siamo disperati? Cioè hai preso dei soldi? Ci mancherebbe. Se avessi preso dei soldi avresti ragione tu. Perché lei sta facendo una critica del sistema e ne è parte? Ma che parte? Quale parte? Ma quale parte?